...spettando tutti i giorni le notizie attraverso il direttore, il formato aperto, poi... ...dovrebbero essere mantenute in questo sforzo che la Regione sta facendo anche per riorientare il nostro ospedale verso la gestione dell'urgenza identitivologica. Grazie. Quindi l'impegno mi sento di prenderlo non perché mi connessi l'ordinario ma perché è fondato sul lavoro. Noi ci siamo presi l'impegno di stare in una condizione potenziale di uscire dal commissariamento dal 2014 al 2015 che continuiamo così. Ci stiamo e presto... ...è una cosa a portata di mano, molto più a portata di mano di quanto noi immaginiamo. Perché se continuiamo ad applicare criteri di valutazione, di organizzazione del sistema, di innovazione come abbiamo fatto in questi mesi... ...è un motivo perché ci sono i giornalisti che cercano il sito dove domani mattina e io lo trovo. Grazie. Grazie.